Lo sloveno Rok Mojic, schiacciatore e capitano di Verona, Maurizio Colantoni. Figlio d'arte, 21 anni, sloveno, una forza della natura, disponibilità e sorriso per tutti, una furia in campo e un nome che è tutto un programma per il gioiello della Rana Verona. Rok Mojic, lo schiacciatore, con le idee chiare, sin da piccolo. Sì, sempre volevo essere il professionista di pallavolo, cioè era il mio sogno. Adesso sono qua ma non mi fermo, voglio continuare, lavorare bene e crescere ancora. Ama Verona ed è a casa sua. Adesso è tutto, la mia vita, il pallavolo era sempre la mia vita, prima ero a Maribor che è la mia città, adesso qua a Verona mi sento come a casa. L'orgoglio di vestire dopo un grande brasiliano la fascia da capitano. Soprattutto dopo il capitano Raffaele che è un mio idolo, cioè lui è il mio esempio, però c'è anche grande responsabilità e questo devo adesso prendere per me stesso in momenti di difficoltà. Super Lega partita in salita, ora però la svolta. Vogliamo fare come l'anno scorso, tante partite vinte di fila, però qua è molto difficile, tutti giocano bene, tutti giocano forte, abbiamo ricominciato e questa è la prima. Adesso arriva un'altra a casa contro Latina, un'altra partita difficile, quindi dobbiamo tornare in campo a lavorare, solo questo ci porta avanti. In due frasi, chi è Rok? Difficile. Una persona molto gentile fuori campo è un animale dentro.